Uomo, 29 anni, belluno. Queste sono le prime informazioni accendendo al suo MySpace. È Luca Stella. Noi sappiamo per certo che è un artista, un batterista, ma anche un grande appassionato di penne e colori. E infatti a Night and Day Luca Stella si presenta come disegnatore. Quando nasci artisticamente come disegnatore? Artisticamente come disegnatore io direi quest'anno. Ho iniziato quest'anno a fare le cose abbastanza sul serio, ho trovato gli agganci giusti, le persone che mi hanno dato molte possibilità e sta iniziando a nascere qualcosa di importante. Quando invece ti sei reso conto che le tue mani avevano un talento particolare sia dal punto di vista musicale ma in questo contesto dal punto di vista proprio dell'arte del disegnare? È una cosa che risale a un bel po' di anni fa. Nel 1998 in seguito a un incidente ho passato molto tempo in ospedale e lì ho iniziato a disegnare, a scopiazzare tutto quello che trovavo e ho visto che effettivamente riuscivo a disegnare abbastanza bene. Allora mi sono buttato su un indirizzo scolastico completamente artistico e lì ho notato che appunto c'erano dei riscontri. Hai avuto la possibilità di lavorare anche con grandi maestri? Beh, il mio maestro è un fumettista affermato, è Roberto Totaro e con lui ha imparato tantissime cose. I tuoi quadri hanno temi ricorrenti oppure tutto è lasciato alla fantasia del momento? Tutta la fantasia del momento, non c'è uno schema iniziale, nasce tutto da un segno e è quello che può significare. Senti, quando un musicista solitamente scrive, scrive in momenti di grande entusiasmo e di grande slancio nei confronti, che ne so, di una fase dell'innamoramento o grandi momenti di sconforto per una delusione di una storia, ma insomma nella canzone in genere si parla sempre d'amore. Nella pittura, nei disegni di che cose si parla? Ma io penso che sia una cosa dovuta all'emozione che hai appunto al momento. Parti a disegnare e magari non è la giornata giusta e allora tiri fuori poco, il giorno dopo invece sei più ispirato dalla giornata, dal momento. Ma a volte succede anche che quando sei triste, soprattutto quando non sai cosa fare, non sai dove apriviarti, ti sfoghi. Tu lavori anche a contatto con la tecnologia, c'è il tuo MySpace in cui tu hai dato vietà a una fanzine completamente virtuale. È una cosa che è nata per gioco, diciamo. Avevo qualche amico che mi stava dietro con i disegni, mi aiutava, mi consigliava e allora volevo trovare un modo simpatico per ringraziarli. Poi questa cosa, con l'avvio di Facebook e comunque di una pubblicità un po' più grande, di larga scala, si sta ingrandendo parecchio. Quindi credi che il mercato globale di internet possa in qualche modo aiutare molto di più a farti conoscere. Io penso che se internet viene utilizzato nella maniera giusta sia una cosa indispensabile in questo campo. Senti, le copertine delle fanzine le decidi tu, i volti, a chi dedicarle, i contenuti? Sì, sì perché ogni fanzine praticamente è un momento della mia vita e c'è una persona che in quel momento mi aiuta di più e mi sta più vicino, soprattutto appunto nei miei disegni. Che cosa vuol dire essere un disegnatore a belluno, avendo un maestro appunto che è riuscito a farsi strada e largo per quanto riguarda il mondo soprattutto dei fumetti e avendo una città che per molti versi dicono sia un grande contenitore di talenti che spesso però non riescono a sporgersi? Beh, di opportunità ce ne sono state tante. Questo inverno, anche l'estate scorsa comunque c'è un'associazione Aurora che ci aiuta tanto in queste cose a esporci, alla gente, anche con i giovedì in piazza che sono appena passati, ci sono state molte possibilità e penso che Belluno comunque dia gli spazi. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è disegnare, continuare a vivere disegnando e riuscire a emozionare le persone. Diamo la possibilità appunto di raggiungerti e di contattarti? Beh, c'è il MySpace, basta digitare Luca Stella su qualsiasi motore di ricerca e viene fuori automaticamente. Un'ultima domanda, fai anche lavori su commissione, cioè oltre a essere il principale ispiratore dei tuoi quadri, c'è anche la possibilità che un futuro venditore possa in qualche maniera metterci il suo tocco, la sua idea? Più che un venditore, adesso sono i privati che mi richiedono anche i temi, quindi devo adattarmi alla situazione. Adesso ci sarà un catalogo che uscirà, che mi darà comunque più visibilità anche al di fuori di Belluno e in tutta Italia. E noi ovviamente te lo auguriamo.